Grazie. A voi, buongiorno, do il benvenuto ai rappresentanti dell'Associazione Nazionale filiera Industria Automobilistica Anfia, il dottor Roberto Vavassori, presidente, e la dottoressa Fabrizia Vigo, responsabile delle azioni istituzionali. Precediamo così con la prima audizione all'indagine conoscitiva sullo stato dell'automotive in Italia, fonti di approvvigionamento, produzione e vendita. Comunico che ai sensi dell'articolo 33,4 del regolamento è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web tv e che la presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Lascio la parola al dottor Vavassori per un totale di 15 minuti. Dopo lascerei qualche domanda eventualmente dai commissari e un'eventuale vostra replica per un totale che non deve superare per organizzazione interna la mezz'ora, ma siamo ampli e quindi abbiamo tutto il tempo a disposizione. Prego e grazie di essere venuti. Grazie mille, intanto un ringraziamento davvero particolare a voi per l'interesse mostrato nel nostro settore, verso il nostro settore, che è un settore certamente rilevante. Rilevante a livello globale, non a caso ogni paese del club dei G7 ha la manifattura dell'automotive tra i suoi pilastri. è innovativo perché a rispetto di quello che si può pensare è il settore che ha il maggior numero di deposito di brevetti all'anno, più delle telecomunicazioni, più dell'aerospace, le cui innovazioni tecnologiche di processo e di migliori pratiche vanno a beneficio di tante altre filiere. Non a caso l'aerospace ultimamente sta assumendo molti ingegneri e anche esperti di acquisto da parte del settore automotive, perché ci stiamo avvicinando come pratica, come qualità, a quello che viene considerato un po' il top della manifattura. Ultimamente, negli ultimi anni e non solo per regolamentazione, è al centro di una transizione a più fattori molto sfidante e complessa. Riteniamo utile darvi un po' questa introduzione per contestualizzare il settore automotive italiano, che è certamente il focus di questa breve presentazione. I numeri della filiera automotive, abbiamo detto, è rilevante. È rilevante sì, perché in Europa sono quasi 13 milioni gli addetti che lavorano nel nostro comparto, quindi più dell'8% della forza lavoro manifatturiere europea. Garantiamo quasi 400 miliardi di euro di gettito fiscale all'anno a livello europeo. Abbiamo un attivo della bilancia commerciale per oltre 100 miliardi di euro. Rappresentiamo il 7% del prodotto interno lordo. E l'abbiamo detto, anche quasi 60 miliardi di investimenti in ricerca e sviluppo. Se andiamo al settore invece italiano, rispettivamente l'industria automotive oppure l'industria più i servizi, parliamo di questo un momento, abbiamo circa 1 milione e 280 mila addetti. Abbiamo 71 milioni di gettito fiscale che garantiamo ogni anno alle casse dello Stato. Questo è importante di gettito fiscale. Questo è importante perché più andiamo verso, per esempio, l'elettrificazione del parco, più dobbiamo pensare a come sostituire, per esempio, le accise sui carburanti in maniera diversa, perché certamente lo Stato non può fare a meno di un importo così rilevante di provvista. Ma come siamo messi rispetto al mondo? Allora, la Cina negli ultimi 20 anni è diventata di gran lunga il mercato di produzione più importante. Rappresentava circa il 4% 20 anni fa. Voi vedete quel cerchio rosso. Nel 2026, che è domani, è previsto che un veicolo su tre venduto e prodotto nel mondo sia prodotto in Cina e anche per una buona parte venduto in Cina. L'Europa, per contrasto, dal 2019 ha perso circa 4 milioni di veicoli prodotti. Eravamo oltre i 21 milioni, siamo scesi dopo un piccolo recupero nel 2023 a 17 milioni e 8. Ma vedete la previsione, al 2026 dovremmo perdere ancora circa mezzo milione di veicoli. Quindi questo è il grosso contrasto. Europa in contrazione, Cina che è diventata molto importante. Stabilità degli Stati Uniti, è la parte grigio chiaro che vedete, sui 16 milioni, 16 milioni e mezzo. Che sfide si trova di fronte la filiera europea dell'automotive? La digitalizzazione spinta di prodotti e processi, iniziata già anni fa con il 4.0, oggi con il 5.0, ma non solo. C'è una digitalizzazione intensa anche dei prodotti che diventano più intelligenti e quindi sempre più sensorizzati e mecatronici. Dal punto di vista della propulsione c'è la spinta oramai reversibile verso l'elettrificazione. E questo apre un discorso molto importante sull'energia perché secondo noi è il tema dei temi. L'energia è il tema dei temi dell'Europa. Non certo è solo per muovere i veicoli elettrici, ma prima di tutto per i processi produttivi. La nostra filiera si è data l'obiettivo volontario al 2040 di essere net zero nei processi. Questo vuol dire che con dieci anni d'anticipo stiamo tutti correndo a cercare energia verde e a ridurre i consumi e a utilizzare sempre più materiali riciclabili circolari nei nostri processi. Ma il tema vero per l'Europa in questo momento riteniamo sia la disponibilità di energia rinnovabile, pulita e a costi competitivi che oggi facciamo fatica a trovare. Vi sono poi una congerie di vieti e limitazioni locali dei sindaci in giro per l'Europa che non sono assolutamente coordinati tra loro e che quindi creano sconcerto anche nei consumatori, negli acquirenti. C'è poi quella che io chiamo la bulimia regolatoria europea, particolarmente in questa commissione che sta terminando i lavori e dall'Europa promana più del 90% della regolamentazione del nostro settore. Quindi è fondamentale che in Europa ci sia un presidio forte da parte del nostro governo e del nostro Parlamento. Vi faccio un esempio solo. L'Euro 7, la CO2 per i veicoli commerciali, l'end of life, l'eco design, il C-BAM, il rich piuttosto che i critical material. Sono una serie di norme, non sempre coordinate tra loro, che tutte vanno a convergere sullo stesso settore, sulla stessa filiera e sullo stesso prodotto. Come in una partita di pallacanestro noi chiediamo time out, dobbiamo risettare un attimo il quadro, anche perché nessuno di questi provvedimenti è, come amo dire io a Bruxelles, competitivo in senso proprio. Quindi che rende più competitiva la filiera e più competitiva le nostre aziende in Europa rispetto al resto del mondo. Quindi è una bulimia purtroppo che si avvita un po' su se stessa. Siamo l'unico settore con una richiesta regolamentare di net zero al 2035. Non c'è un altro settore, non la moda, non il food, non il furniture, non i mobili, che hanno la stessa richiesta. E sta montando, avete visto prima, una competizione dall'Asia in tutti i sensi assolutamente forte. E una pressione rilevante. La nostra filiera. Uno dei temi rilevanti lo vedete qui espresso in numeri, in realtà qui se ne vedono già un paio. Intanto l'estrema frammentazione del nostro settore. Per 56 miliardi di fatturato nella componentistica, divido componentistica e costruttori, abbiamo più di 2.000 imprese, che diventano oltre 5.000 se consideriamo anche chi contribuisce per una parte della propria produzione. Penso ai bulloni, penso ad altri prodotti, non quindi integralmente per l'automotive, ma anche utilizzati nell'automotive. Quindi la dimensione, la numerosità delle imprese, perché vedete gli OEMs, ne contiamo 45, ma voi sapete, ce n'è solo uno poi di volume che abbiamo in Italia. Per un fatturato non eclatante e per un numero di addetti, che qui già vedete, è molto maggiore nella componentistica, quasi tre volte, rispetto a quello della produzione di veicoli. E questo lo spieghiamo tra pochissimo. Altra cosa che qui si vede è che abbiamo un saldo commerciale pesantemente negativo nella settore dei veicoli, perché ne importiamo molti di più di quanti ne esportiamo. Per parlare di territori e parlare quindi del nostro stivale, abbiamo una situazione un pochino paradossale, per ragioni storiche, che si è venuta a creare. Quindi abbiamo l'80% della produzione dei veicoli che avviene nelle regioni del Mezzogiorno. Mentre per converso, e qui vedete quanti stabilimenti abbiamo, e questo vi dice che per produrre poi il volume che vedremo, certamente c'è un eccesso di stabilimenti detti in maniera molto cruda tra di noi. Dal punto di vista aziendalistico è difficile gestire una numerosità di questo tipo. Per converso, quasi l'80% della produzione invece dei componenti avviene nelle regioni fino all'Emilia Romagna. Lombardia e Piemonte da sole cubano quasi il 70%. Poi ci aggiungiamo il 10% di Emilia Romagna e l'80% di produzione di componentistica avviene in queste poche regioni. Ecco, qui c'è un altro dato molto importante che forse molti di voi conoscono, o forse non tutti. Oltre il 70% del valore di ogni veicolo è costituito dai suoi componenti. E questo spiega un po' il perché abbiamo 166.000 addetti nella parte di componentistica e abbiamo solo, tra virgolette, oltre 60.000 addetti nella parte di produzione di veicoli. Ma come siamo messi come Italia rispetto agli altri paesi europei? Beh, con rammarico dobbiamo dire che l'Italia è scesa negli ultimi anni al settimo posto come produttore di autoveicoli in Europa. Eravamo fra i primi quattro, ce la siamo giocata per parecchi anni. Non siamo mai stati un produttore da 4-5 milioni di veicoli come è la Germania. Tanto per chiarire, non è che dobbiamo cadere nella retropia e pensare che l'Italia sia stata un grande produttore di veicoli. produciamo grandi veicoli, soprattutto quelli sportivi, ma oggi siamo scesi al settimo posto. Ci hanno superato alcuni paesi dell'est come la Repubblica Ceca, come la Slovacchia, la Spagna. La Spagna che vedete ha una produzione quasi quadrupla rispetto ai nostri 542.000 solo autovetture. E qui vedete che siamo tornati a livelli del 2019, quindi pre-Covid, ma con una distanza comunque considerevole rispetto a quelli che chiamiamo i major market. E comunque ce ne mancano 200.000 di autovetture rispetto al 2017. L'ultimo anno Felix che mi piace ricordare. Poi abbiamo Belgio, ecco però vedere l'Italia che a livello di una produzione automobilistica come quella del Belgio, francamente non è che ci entusiasmi, o come quella dell'Ungheria. Saremo superati tra poco dall'Ungheria perché la decisione di BYD di stabilire un sito di produzione in Ungheria, è chiaro che contribuirà per 150-200.000 veicoli ulteriori alla loro produzione. Se non solo le autovetture ma contiamo anche i veicoli commerciali, il numero diventa leggermente superiore, diventa di 880.000 veicoli, vedete la parte blu scuro, i 542.000 veicoli che sono le autovetture di prima e poi si aggiungono i veicoli commerciali. Per la più parte questi sono veicoli commerciali leggeri, quindi i nostri Ducato famosi, prodotti ad attessa, oramai da parecchi anni, con grande successo devo dire, e poi qualche veicolo Iveco e qualche veicolo speciale, purtroppo solo pochissimi autobus, 400 autobus prodotti l'anno scorso in Italia, a fronte di una richiesta di più di 5.000 autobus, perché ovviamente abbiamo un parco circolante estremamente vecchio e già da anni Anfia, con i vari governi che si sono succeduti, ha proposto piani almeno decennali di rinnovo intenso del nostro parco di autobus. Allora, quella era la produzione, qui invece vedete il dato del mercato, cioè quanti veicoli vengono venduti in Italia. Qui vedete la discrasia tra i 542.000 veicoli, la parte blu scuro di prima, e il 1.565.000 di adesso, tre volte tanto. L'Italia è un unicum in Europa, forse anche nel mondo, per da un lato produrre veicoli e dall'altro consumarne il triplo. Ovviamente non ci deve essere una corrispondenza uno a uno, questo sarebbe una cosa poco sensata e poco logica, soprattutto in un mercato che vede sempre più la presenza di piattaforme globali. Quindi io ho una piattaforma su cui costruisco vetture diverse tra di loro, dalla Spyder alla Coupé alla Familiare al SUV, usando quasi tutti gli stessi componenti, in giro per il mondo e con 10-12 marchi diversi. Questo è il concetto che oggi è in balso nel nostro settore. Si parla di piattaforme globali e parlando di piattaforme globali è chiaro che la dimensione che abbiamo visto prima è un limite per le nostre aziende perché devono essere in grado di proporre la stessa qualità e di offrirsi per produrre in Asia, per produrre quindi in Cina, per produrre in Europa, per produrre negli Stati Uniti esattamente con la stessa qualità, mentre invece alcune delle nostre aziende hanno per orizzonte al massimo l'Europa. Quali sono le sfide peculiari della filiera italiana? Siamo oramai verso la conclusione di questa prima carrellata. Intanto, l'avete visto, c'è un forte sbilancio tra produzione e vendita. Abbiamo per ragioni storiche poi un solo produttore di grosso volume, che è Stellantis, oggi dopo le varie trasformazioni. Faccio un piccolo inciso su Stellantis. Stellantis ha prodotto l'anno scorso in Italia 752.000 veicoli, includendo anche i veicoli commerciali di Atessa. Questi veicoli sono molti di più di quelli che ha prodotto l'anno scorso in Francia. Questo perché ogni tanto sui giornali si legge mai attrazione francese o né attrazione francese. Carlo Stavares negli ultimi cinque anni ha ridotto in Francia la produzione dei veicoli Stellantis di oltre 500.000 unità, chiudendo due stabilimenti, nonostante la mentire del ministro Lemaire, eccetera. Ne ha ridotti molti meno in Italia. L'unico paese che oggi noi vediamo come concorrente dal punto di vista dell'universo Stellantis riguardo alla nostra filiera è la Spagna. La Spagna per una serie non solo di condizioni competitive, tipo l'energia, la facilità di assumere e riorganizzare aziende, il costo del lavoro, logistica, ma anche il fatto che Stellantis, essendo il risultato di diverse aziende, si è trovato in Spagna uno stabilimento di Opel, uno stabilimento di Peugeot, oltre a uno stabilimento di Fiat. Quindi l'insieme di queste cose già ha creato una base produttiva che era molto consistente rispetto a quella che noi abbiamo in Italia. La dimensione aziendale media, l'ho detto prima, è inadeguata rispetto alle sfide perché se noi abbiamo un'azienda brillante di 30, 35, 40 persone è difficile che questa azienda possa giocarsela nelle offerte, nelle richieste d'offerta che una Stellantis, una Mercedes, una BYD ti crea a livello mondo per le loro piattaforme dove tu devi essere in grado di garantire volumi e qualità e quantità e costo omogeneo in giro per il mondo. Questo è un grosso tema. Essendo piccoli c'è anche una limitata capacità di investimento in innovazione. Se posso dire, per vostra informazione, tra i tanti meriti dell'era Marchionne un demerito, a mio modo di vedere, è quello che non siamo stati in grado durante quel periodo di esprimere una piattaforma globale. Per cui anche la piattaforma Giorgio, su cui viene costruita oggi la Stelvio piuttosto che la Giulia, abbiamo il merito di averle sviluppate bene in un garage di Modena, ma certamente non con i criteri necessari a farle diventare piattaforme globali. Ecco perché nel mondo Stellantis oggi siamo a trazione francese marcatamente Peugeot, soprattutto per le piattaforme esistenti. Le nuove piattaforme, quelle che verranno anche prodotte in Italia seguono concetti abbastanza diversi. Il nostro sogno come Anfia, sogno sognabile, è di portare una piattaforma a essere completamente ingegnerizzata e sviluppata con le risorse italiane. Abbiamo anche ulteriori sfide che si aggiungono a quelle che sono un po' insite nel nostro DNA, che sono quelle poste dalla regolamentazione europea. Almeno una parte di quella che vi dicevo prima bulimica. E qui abbiamo, vedete, al 2035, non ancora oggi smarcata completamente la ideologia che vuole un solo tipo di motorizzazione e che è uno zero locale. Perché ovviamente col medio mix energetico europeo il fatto che non inquino localmente non significa che quando attacco la macchina alla spina non sto emettendo il 60% di combustibili fossili bruciati per produrre l'energia che mi occorre. No, noi siamo per la neutralità tecnologica, per disegnare una transizione intelligente, al 2035 rispettando queste sfide ma capendo che abbiamo bisogno di ogni possibile vettore energetico a bassa o nulla emissione carbonica. Quindi quello è un diktat che con la nuova commissione dobbiamo superare. Abbiamo avuto un approccio di questo tipo, sono nove gironi, non sono danteschi, oppure se sono danteschi sono, speriamo, il paradiso e non l'inferno. Partono dallo stabilimento, ma lo stabilimento è la partenza ma certamente non è l'arrivo perché richiede, avete visto prima, di avere componentisti competenti e competitivi all'intorno perché il 70% di quello che assembla lo stabilimento arriva da loro. Per avere componentisti in gamba e competitivi ci vuole ricerca e sviluppo, quindi la qualità delle persone che in Italia è elevata, è uno dei pochi punti di forza dove l'Italia può giocarsela, la qualità sia delle persone di ricerca e sviluppo e la flessibilità delle persone sulle linee produttive. Abbiamo bisogno di un sistema formativo adeguato, ci dobbiamo rivolgere ai territori perché è lì che le nostre aziende poi vanno a lavorare, quindi abbiamo bisogno di processi autorizzativi, di processi di accettazione della presenza delle aziende sempre più sviluppati e poi su su andiamo a chiedere sia alle regioni ma soprattutto a livello governativo le infrastrutture necessarie e qui parlo per esempio di fattori energetici, di sistemi che funzionino per import-export, i porti, la logistica integrata e ci vuole un quadro normativo di riferimento adeguato perché oggi è uno dei limiti grandi per un investitore che pensa magari di arrivare in Italia con qualche investimento e alla fine solo se tu hai tutto questo in ordine puoi andare da, lo dico male, da un Elon Musk e proporre uno stabilimento in Italia. Ecco ma lo stabilimento è il punto di arrivo e di partenza di un processo molto più complesso. L'anno scorso, parlando di veicolo elettrico, per il primo anno dopo 20 e rotti anni il veicolo più venduto in Europa non è stato il classico modello Golf ma è stata un'altra vettura prodotta in Germania, quindi in Europa, totalmente elettrica. È stato il Model 3 della Tesla. Questo a dire che non è che l'elettricità sia un gioco, è un mestiere molto importante. L'industria ha investito mille miliardi a livello globale tra componentisti e costruttori. Adesso abbiamo un periodo di plateau, dopo la prima rampa di scale c'è un pianerottolo in attesa che arrivino altri modelli più convenienti nel loro uso ma è un mestiere che è inevitabile e il trend oramai è marcato. Quindi non c'è più la dicotomia chi ama i pistoni e le bielle e chi ama il rotore. Questo oramai è superato, la direzione è quella. Si tratta solo di stabilire il modo più intelligente anche dal punto di vista occupazionale per andare in quella direzione. Noi abbiamo avuto come Anfia un approccio di sistema, abbiamo salutato con favore l'incrocio che si è creato col Mimit, abbiamo firmato un protocollo di intesa del settore automotivo italiano che crediamo abbia all'interno degli ingredienti di novità per come stiamo cercando di affrontarlo. Quindi quello per cui vi ringraziamo ancora oggi è il primo momento di audizione. Chiediamo se possibile venga seguito da un secondo momento perché nel giro di poche settimane avremo terminato questo studio che produrrà dei dati molto interessanti crediamo anche per voi e quindi vorremmo tornare a presentarveli perché sarà una sorta di bashbook e una roadmap anche, una strada seguita del nostro settore. Cosa contiene questo studio che stiamo promuovendo? Ci stiamo dedicando tutti in Anfia, abbiamo anche un consulente esterno, abbiamo coinvolto regioni, lo vedremo tra un attimo. Allora intanto vogliamo raggiungere almeno un milione di veicoli annui. Li stiamo chiedendo intanto al costruttore nazionale, quello che è già sul nostro territorio, ma stiamo anche cercando di allargare il campo a eventuali altri produttori. Devo dire che qui ovviamente ce la giochiamo con l'Ungheria, con la Spagna, però avete visto che quel mattacchione tra virgolette di Elon Musk è andato nel cuore della Germania a mettere il primo stabilimento da mezzo milione di vetture e da lì ha fatto venire fuori il modello più venduto l'anno scorso, per esempio. Quindi anche noi dobbiamo essere un po' immaginifici. Ci vuole un grosso sostegno agli investimenti per la riconversione produttiva delle aziende e della componentistica, quelle che non saranno più dipendenti un domani dalla produzione dei motori endotermici, se non per una parte, e quindi c'è bisogno di un aiuto forte di una direzione. Quello della ricerca e sviluppo è fondamentale perché non vogliamo diventare, fatemi dire, il Marocco di adesso dove ci sono grossi fattori di convenienza produttiva, le piccole quadricicli, le piccole vetturette elettriche che vedete anche la Topolino viene prodotta in Marocco e per ora senza grossi contenuti di ingegneria, ma ovviamente noi dobbiamo considerare il Nord Africa, i paesi che si affacciano sul Mediterraneo in qualche modo come la nostra Cina. Cioè dobbiamo essere capaci di regionalizzare questi paesi portando le nostre aziende anche là e non facendoci solo arrivare competizione dall'altra parte del Mediterraneo. Dobbiamo creare nuove figure professionali. La invito a chiudere perché abbiamo sforato del doppio, però siccome si è autoinvitato un'altra volta noi accogliamo il suo autoinvito e quindi le garantiamo che sarà nostra premura a riaudire. No, no, abbiamo cinque tavoli operativi dove abbiamo voluto includere, questo è il vero cuore del lavoro, governo, territori, quindi le regioni, le regioni automotive, l'industria, le parti sociali. Secondo noi è un metodo di lavoro inclusivo e concreto. I risultati vorremmo illustrarveli in un'altra occasione. Grazie e scusate. No, no, grazie a lei, grazie a voi. Chiedo ai colleghi se hanno domande da rivolgervi o interventi. Senatore Pogliese. Grazie Presidente. Credo che questa audizione sia stata molto proficua, molto interessante. I dati che sono stati esternati sono altrettanto interessanti. Io vorrei chiedere conferma, se non ho fatto male i conti, rispetto a quello che lei ha esternato, caro dottore Vavassori, il saldo commerciale, sia ovviamente includendo il settore della componentistica con quello della produzione, mi risulta negativo di 8 miliardi e 2, credo, se ho fatto bene i conti. Credo che questo dato sia molto, ma molto, quindi mi conferma, perfetto. Questo dato credo che sia certamente non entusiasmante, molto negativo, soprattutto se comparato con un altro dato che lei ha evidenziato, rispetto ovviamente alla produzione italiana, dove siamo in questo momento i settimi in Europa. Io lo dico con estrema sincerità, con altrettanta umiltà. Non mi sarei mai aspettato di ascoltare questi dati così pesanti. Avrei, non avendo competenze nel settore, immaginato un quarto o quinto posto, ma arrivare settimi in Europa, in questo momento credo che siano dati assolutamente preoccupanti. Credo che quello che è stato invece poi da parte vostra, anche esternato alla fine, come obiettivi da raggiungere sulla produzione complessiva di un milione di veicoli, credo che rappresenti un obiettivo assolutamente condiviso, ritengo ovviamente non soltanto al Parlamento, ma anche e soprattutto dal Governo, un obiettivo verso cui dobbiamo certamente tutti tendere, e credo che quello che sta facendo il Mimit, in tal senso, sia altrettanto importante. L'ha evidenziato lei e credo che sia fondamentale che si lavori in assoluta sinergia, perché ho avuto modo di vedere anche altri dati, ma certamente abbiamo delle criticità oggettive che lei ha evidenziato sul tema anche della distribuzione territoriale degli impianti in Italia, molto molto articolata, probabilmente frutto di alcune normative del passato, cassa per il mezzogiorno, tutto quello che ne è conseguito, però poi magari abbiamo lasciato delle cattedrali nel deserto all'interno di alcuni territori, e quindi credo che ci sia la necessità anche di un lavoro assolutamente sinergico fra il principale produttore in Italia, che magari nel passato ha ottenuto ingenti risorse pubbliche, per poi immaginare percorsi di delocalizzazione di impianti produttivi al di fuori del confine nazionale e talvolta al di fuori del confine europeo. Quindi credo che una riflessione debba essere fatta in assoluta sinergia fra chi produce e ovviamente chi governa il Paese. Grazie. Senatore Bergesio, prego. Raccogliamo tutte e poi le do la parola e rispondo. Grazie Presidente, grazie naturalmente a lei Presidente Vavassori e anche a Fabrizia Vigo. Il tema è una sfida molto importante, quella di riuscire a capire quale tipologia di azione noi possiamo portare avanti a livello parlamentare, naturalmente noi non siamo nessuno di noi e al governo, però siamo una maggioranza a supporto di questo governo. Volevo chiedere, nello specifico, tra le sfide peculiari della filiera italiana la dimensione aziendale media è inadeguata rispetto alle sfide. Ecco, che cosa voi in pratica avete pensato, oppure quali sono le proposte che voi fareste per far sì che noi avevamo una grande azienda che rispetto, come è stato detto in precedenza, che oggi ci ritroviamo poi con una produzione di auto particolarmente ridotta rispetto a quello che poi è il fabbisogno degli italiani. C'è anche il tema, a mio avviso, volevo anche chiedere a lei, il tema della gestione della fase delle emissioni a livello europeo e non solo. Cioè, quando tra gli obiettivi che ha l'innovazione tecnologica, l'innovazione produttiva è legato molto alle emissioni che sono poi legate anche ai valori di ogni singolo continente, di ogni singolo stato, eccetera. Lei non pensa che potrebbe essere utile lavorare a un sistema di rilevazione, soprattutto univoco, della qualità dell'aria e soprattutto in funzione del fatto di capire se realmente si inquina oppure non si inquina. L'altro tema, il tema che toccava anche il mio collega correttamente, è quello degli incentivi, che quando sono stati dati alle aziende abbiamo visto che forse hanno arricchito di più il portafoglio degli industriali o dell'industriale di riferimento rispetto al resto. Lei pensa che è una politica di incentivi che aiuti soprattutto le fasce medio-basse nella sostituzione dei veicoli che purtroppo magari sono già datati, perché noi assistiamo anche a una fascia di popolazione che i veicoli soprano gli 8-10 anni, potrebbe essere interessante a partire da subito e potrebbe essere una di quelle misure che ci aiuta a portare alla produzione di un miliardo di vetture l'anno rispetto a quello che abbiamo detto in precedenza. Grazie, Senatore Bergegio. Se non ci sono l'antinsenatore Nave, prego. Grazie Presidente. In realtà la domanda risolta su questo, poiché il 70% del valore dell'auto deriva dalla parte dei componentisti e la maggior parte di questi componentisti attualmente lavora su motori endotermici. Quindi quando lei fa riferimento all'elettrico, che è inevitabile, però a questo punto la domanda è non può solo l'elettrico in questo momento permettere di raggiungere quel traguardo se poi abbiamo una maggioranza di aziende che lavorava con componentistica sull'endotermico. Quindi a quel punto in che modo invece lei ritiene sia opportuno operare affinché ci sia questa transizione, questo cambiamento? Ecco perché poi non è che un'azienda trasforma un carburatore in una bobbina così dall'oggi al domani. Quindi se in realtà quel valore del milione di autovetture da produrre all'anno possa poi in realtà essere raggiunto se non ci siano politiche adeguate affinché ci sia una riconversione di queste aziende. Grazie. Bene. Senatore Franceschelli. Proprio una domanda veloce. Attiene alla logistica. Se c'è una riconversione sull'elettrico ma anche parziale. Come si intende gestire la parte logistica anche per quello che attiene alle ricariche perché comunque notiamo che in molti territori, in molte aree interne, lo dico anche per esperienza personale, spesso la rete non garantisce il supporto alle colonnine di ricarica. Per cui se questo si dovesse andare in modo massivo come si può fare per migliorare questa infrastruttura e far sì che sia poi utilizzabile nell'intero paese. Prego Presidente. Grazie. Dunque, i distretti sono la caratteristica industriale dell'Italia. A me piace parlare che in termini zoologici siamo un po' le formiche, noi abbiamo tante piccole formiche, ma le formiche che lavorano insieme bene possono fare delle grosse costruzioni. Noi non abbiamo i giganti che sono i nostri competitor componentisti che fatturano 10, 15. Pensate che c'è un componentista tedesco, il nome si può fare perché i bilanci sono pubblici, che è la Bosch, che da solo cuba come tutta la componentistica italiana. Un unico. Ok? Quindi questo vi dice che tipo di sfide abbiamo di fronte. Noi possiamo e potremmo competere solo se usiamo bene in maniera intelligente la digitalizzazione e creare nei distretti delle metafabbriche dove ognuno si specializza in maniera molto coerente rispetto al proprio fornitore e cliente in modo da creare un sistema flessibilissimo. Io ho in mente Taiwan, che non è una grande nazione dal punto di vista della popolazione, ma è estremamente ingegnosa e produttiva dal punto di vista della componentistica. Ecco, quello deve essere un po' il nostro modello, la nostra ossessione. Oppure penso alla Corea del Sud, ancora non un grande paese, ma oggi produce 8 milioni di veicoli in giro per il mondo e in Corea. Ed ha un sistema di fornitori nella componentistica assolutamente in prim'ordine. Ci sono dei modelli, non va inventato nulla. Regolamenti 2035. Allora, una misura può essere quella di contare le emissioni con il metodo di life cycle assessment. Quindi andiamo a vedere dalla culla alla tomba come si dice quanto emettiamo. Però, questa è una necessità, perché altrimenti prendiamo delle cantonate pazzesche. Il fatto che consideriamo il veicolo elettrico oggi uno vale uno, dalla piccola Zoe della Renault alla grossa Tesla, quando il contenuto carbonico è totalmente diverso già nella fase di produzione e quindi giri per la città dicendo che sei pulito con oltre due tonnellate di peso, assolutamente va iniziato a cambiare oggi, perché non è che uno vale uno. Quando poi ti attacchi alla spina ovviamente devi assorbire 150 kWh e poi ci porta all'altro problema. Il vero tema qui è attendere però i combustibili fossili, si esauriranno. Oltre che essere dannosi, si esauriranno. Quindi, siccome il resto del mondo va in quella direzione, la piccola Italia che abbiamo visto proprio è un'italietta dal punto di vista produttivo, guai se rimanesse a baloccarsi con pistoni e bielle, anziché cercare di prendere il proprio posto nel mondo che sta arrivando. Anche perché, salto una domanda ma la riprendo, il 60% della componentistica su un veicolo resta, gli interni, le ruote, i pneumatici, i freni, i fari, cioè il 60% dei componenti ci sono. Lei smonta una Tesla, quello che vede che manca è il motore endotermico, la gestione dei radiatori, per dire, sono più sofisticati sulla Tesla che non su una macchina a motore endotermico, perché la batteria è più critica rispetto al motore endotermico. Quindi è quello che dobbiamo guardare. Ci vuole una transizione ordinata. Quindi, se noi sappiamo gestire bene questa fase, adesso vedete che è una fase un po' a strappi, perché prima tutto elettrico, adesso iniziamo a farci le domande. Ma l'elettrico sarà? Sì, l'elettrico sarà, dobbiamo solo arrivarci in maniera ordinata. E questo ci eviterà anche problemi occupazionali che oggi stimiamo essere in varie decine di migliaia di unità se non sappiamo gestire bene questa transizione. Ma attenzione che fra dieci anni ci mancheranno invece le persone. Oggi ci mancano determinate competenze. A dieci anni data mancheranno le persone. E non solo da noi. ero l'altro giorno in Ungheria, stanno facendo contratti biennali con nepalesi, filippini, indonesiani, perché sono alla piena occupazione. Punto. Per produrre automobili. Gli incentivi. Gli incentivi, dobbiamo dividere quelli al prodotto o quelli alle aziende. Quelli al prodotto, secondo noi, sono utili, così come li abbiamo aiutati a disegnare, mi permetto di dire, perché possono recuperare quel gap di 200-250 mila veicoli che oggi ancora abbiamo a livello di immatricolazioni rispetto a 1.800.000 veicoli che secondo noi è il giusto tasso di rinnovo del parco circolante. Attenzione, in Italia abbiamo circa 30-80 milioni di veicoli. Se andiamo a 1.800.000 veicoli ci vogliono 25-26 anni per un completo ricambio lineare. Quindi vuol dire che continuiamo ad emettere un bel po' di CO2 per parecchi anni. Le ricariche e la logistica. Qui il vero tema, lo guardavamo qualche settimana fa con alcuni colleghi, diventerà a breve il rame. Stranamente l'Europa, gli Stati Uniti non stanno guardando a questo tema. Se noi dobbiamo reinfrastrutturare tutti i condomini, c'è uno studio del Politecnico di Milano recente che dimostra che già fra 6-7-8 anni l'Europa avrà una carenza di circa 20 milioni di tonnellate all'anno di rame, il vecchio e nobilissimo e volgare rame, che non sarà sufficiente per produrre quei sistemi che occorrono per alimentare non solo la transizione delle auto, ma le pompe di calore. Ma il fatto che adesso vogliamo eliminare il gas in casa e andare con forni elettrici, un forno elettrico, una piastra di induzione, se va a pieno carico, io mi sono stupito ma sono 7-8 kilowatt solo la piastra di induzione. Poi supponiamo che si va alla media potenza. La pompa di calore, cioè mediamente, noi che in Europa eravamo l'unicum con 3 kilowatt, per cui l'85% della popolazione viveva con 3 kilowatt, bella risparmiosa. Adesso, se non hai 6-7 kilowatt in casa, sei su e giù dalle scale con l'interruttore spento. Questo è molto più critico dell'infrastrutturazione delle ricariche, perché io guido elettrico e anche altre cose da parecchi anni, come sali in macchina vedi la mappa di dove puoi ricaricare. E non è che ricarichi tutti i momenti, francamente oggi. Quindi quello lo vedo come problema accessorio. Sarebbe sbagliato usare soldi pubblici per infrastrutturare prima il territorio, non sapendo neanche con quale tecnologia. Se io oggi metto una tecnologia rischia di essere obsoleta, prima che riesca a recuperare l'investimento che faccio. Attenzione che una colonnina da 150 kilowatt costa 70.000 euro. E' per quello che poi se mi ricarico lì, costa di più oggi ricaricare in elettrico che non a benzina o a diesel. Oggi è così. Scusate se è stato lungo. Grazie. Se non ci sono altri interventi, ringraziandovi della collaborazione e anche della disponibilità, facciamo suo l'invito e la richiameremo magari a fine del ciclo, dandole il tempo poi di raccogliere appunto i dati che prima ci... Grazie mille perché noi questo è il nostro obiettivo, cioè avere tutti gli strumenti per conoscere e riuscire a farci scattare qualche posto più in su rispetto al settimo, che è quello che noi vorremmo fare, non ci illudiamo di essere i soli che su questo possono invertire la tendenza, ma sicuramente dovremmo fare in modo che... Quanto meno di provarci. Grazie e buon lavoro.